Schoolbusters è andare nelle scuole superiori per fare orientamento universitario per quanto riguarda le facoltà di area medico-sanitaria. Noi proprio torniamo nel nostro vecchio liceo e condividiamo la nostra esperienza da studente di medicina ma soprattutto da aspirante studente di medicina. Noi diamo proprio dei consigli diretti e pratici su come affrontare la vita universitaria. Conosciamo molto bene sia come prepararsi al test ma soprattutto conosciamo la paura di non farcela quindi siamo in grado di dare dei consigli sulla gestione dell'ansia. L'incontro dura circa due ore ed è suddiviso in due parti. Nella prima parte diamo essenzialmente delle informazioni che possono essere utili ai ragazzi, per esempio la storia del test ingresso, come è cambiato in questi anni. Conciliare lo studio della maturità con quello che è lo studio per il test ingresso. Nell'ultima parte dell'incontro facciamo fare una breve simulazione, una simulazione che è il più attinente possibile con la simulazione vera e propria. I ragazzi fanno tante domande, noi fattiamo tanti miti e per loro è anche molto più semplice chiedere e informarsi a qualcuno che ha qualche anno in più di loro. Nell'insieme sono momenti sia utili che divertenti. In fondo il nostro motto è proprio studenti per gli studenti. Un'altra parte dell'incontro facciamo fare un'altra parte. Grazie a tutti.